I scuoli riapriranno per metà dicembre? C'è una possibilità? C'è una discussione in corso che non si è ancora chiusa in questo momento in cui va in onda, in cui io sono qui con voi, quindi tendenzialmente io credo che le scuole vadano aperte quando potranno stare aperte e magari non aperte in maniera simbolica. Quindi meglio sarebbe dopo le feste a gennaio? Le scuole è bene aprirle e lasciarle aperte. Sì, esattamente. Noi andiamo in quella direzione, dobbiamo assolutamente stabilizzare e anzi progredire molto in buoni risultati che ancora sono buoni, nel senso che sono migliori, ma non sono quello che dobbiamo raggiungere. Non abbiamo raggiunto l'obiettivo. Grazie.